le nostre amiche oggi vogliono piantare un bell'albero nel giardino dobbiamo trovare il vestito adatto vediamo cosa c'è nell'armadio ciao Irene, allora come ti vuoi vestire per il giardinaggio? vediamo che cos'hai nell'armadio vediamo un po' forse questo è un abito un po' particolare effettivamente questo potrebbe andare bene con i guanti e tutto saresti perfetta, no? e che cosa ti vuoi mettere? oggi non c'è scuola e le nostre amiche hanno deciso che andranno a fare un po' di sport aiutiamoli a trovare i vestiti giusti ciao piccola Irene, sei pronta? non vedi l'ora di uscire ad allenarti a fare sport? allora vediamo cosa c'è nell'armadio cosa possiamo mettere? questo vestito? no, non va bene forse questa tuta? così sei perfetta e anche molto comoda no? non ti piace? oggi le nostre amiche andranno alla piscina dobbiamo trovare un vestito adatto ciao Irene sei pronta per andare in piscina? vediamo cosa c'è nell'armadio beh ci vorrebbe un bel costume con i braccioli questo è grazioso non ti piace? e allora vuoi vestirti da tritone? no e non so proprio come tu ti possa vestire oggi Chiara, Irene e Silvia vogliono andare al parco giochi per poter andare sull'altalena sulla giostra e sullo scivolo come si possono vestire? ciao Irene, buongiorno allora come ci vogliamo vestire per andare al parco giochi? che cosa c'è nell'armadio? quanti bei vestiti che hai potremmo mettere questo qui da coniglio? beh però ti sta bene allora questo qui da sport beh è comodo, non lo vuoi? le nostre amiche sono partite per fare un bel viaggio in montagna visiteranno i boschi e faranno strade sterrate perciò è importante trovare i vestiti giusti ciao Irene allora sei pronta? dobbiamo scegliere come vestirci vediamo cosa c'è nel tuo armadio dobbiamo fare un'escursione in mezzo alla natura quindi ci vuole qualcosa di comodo questo vestito è molto bello ma non è adatto ci vorrebbe qualcosa adatto ad andare nel bosco questo è molto carino no? non ti piace? oggi le nostre amiche hanno deciso di andare in spiaggia perché il mare è bellissimo e c'è un fantastico sole dobbiamo decidere cosa metterci ciao Irene sei contenta che andiamo in spiaggia? allora vediamo subito come ci possiamo vestire quanti vestiti vediamo un po' questo da sirena? ma no non è mica una festa in maschera e questo bel vestito coi pesci? no no non sei per niente comoda con questo oggi è una bellissima giornata d'inverno con la neve e un bel tempo per giocare ciao Irene sei pronta per uscire? dobbiamo decidere come vestirci vediamo cosa c'è nel tuo armadio quanti bei vestiti dobbiamo trovare quello giusto che dici di questo da gatto? ah sei molto carina non ti piace? questa sera le nostre amiche andranno nello spazio dobbiamo trovare i vestiti adatti vediamo cosa c'è nell'armadio ciao Irene allora dobbiamo trovare il vestito adatto vediamo cosa c'è nell'armadio allora l'abito più adatto è sicuramente questo non lo vuoi? ma guarda che è il modo migliore per muoverti su una navicella e allora questo un costume da star trek? no? questa sera le nostre amiche hanno deciso di andare a ballare in discoteca ma come si possono vestire? ciao Irene allora vieni anche tu a ballare in discoteca stasera? vediamo un po' cosa c'è nel tuo armadio wow quanti bei vestiti allora quale potremmo provare? forse questo? sei molto carina non ti piace? allora questo? beh sei un po' scura oggi le nostre amiche andranno al teatro dell'opera ma dobbiamo trovare un vestito adatto ciao Irene allora sei pronta per il vestito? dobbiamo trovare quello giusto per andare all'opera un bel vestito elegante come questo no non ti piace? allora proviamo questo oh come sei carina no? neanche questo? beh allora oggi le nostre amiche andranno a lezione di danza classica aiutiamole a scegliere l'abito giusto ciao Irene sei contenta che andiamo a danza? scegliamo il vestito adatto che cosa c'è nel tuo armadio? questo vestito bianco è molto bello ti sta benissimo che cosa c'è? non vuoi andare a danza? ah non vuoi fare danza classica allora forse vuoi ballare il tango? beh stai bene no? oggi c'è il gran ballo e bisogna trovare un abito adatto per andare a fare grande figura alla festa ciao Irene allora dobbiamo vedere che abiti hai per andare a una festa come quella di stasera dunque ci vorrebbe un abito da principessa questo qui da biancaneve che dici? non ti piace allora proviamo questo da dama sei molto bella non ti piace questa sera a scuola ci sarà il saggio dobbiamo decidere come vogliamo vestirci per la nostra esibizione ecco ciao Irene sei pronta per stasera? come ti vuoi vestire? dunque vediamo cosa c'è nell'armadio beh potresti fare un'esibizione in piscina? no eh non ti piace allora potresti fare un'esibizione magica? non mi sembri convinta cosa? si avvicina halloween e le nostre amiche devono decidere come vestirsi bisogna scegliere delle maschere spaventose Irene? Irene dove sei? oh ti sei spaventata ma non devi avere paura queste sono solo maschere è per giocare vediamo cosa possiamo metterci stasera un bel costume da clown che carina però non è adatto un costume da principessa eh no neanche questo va bene per halloween ci vuole qualcosa che faccia spavento oggi le ragazze vanno a una festa in maschera e hanno deciso di vestirsi come i personaggi dei cartoni animati vediamo che cos'hanno nell'armadio ciao Irene allora sei pronta per la festa? vediamo quali bei vestiti hai e scegliamo il più bello oh quante cose si possono scegliere forse questo da topolino? stai benissimo no? non ti piace? allora proviamo questo che dici? è carino no no non fare così Irene che cosa vuoi metterti? oggi le nostre amiche parteciperanno a un set fotografico ciao Irene sei pronta per il set fotografico? andiamo a vedere cosa c'è nel tuo armadio potresti metterti un bel completo da marinaretto che carino non ti piace? e allora potresti vestirti da fatina principessa no? oggi le nostre amiche hanno deciso di andare allo zoo dobbiamo vedere quali sono i vestiti più adatti per andare a trovare gli animali vediamo un po' cosa c'è nei loro armadi ciao Irene sei pronta per andare allo zoo? non vedi l'ora? e allora decidiamo subito cosa indossare quanti bei vestiti dobbiamo trovarne uno adatto al nostro scopo questo andrebbe bene non ti piace? così? no vabbè troppo elegante le ragazze vogliono andare a fare una bella passeggiata solo che è iniziata la pioggia e quindi bisognerà pensare a come vestirsi ciao Irene sei pronta per uscire a fare una bella passeggiata? allora che cos'hai nell'armadio? mmm quanti vestiti bellissimi cosa ci possiamo mettere? questo? oh beh è perfetto per l'acqua ma non per la pioggia forse questo è perfetto sì? come non ti piace? oggi le nostre amiche andranno in fattoria devono aiutare la nonna a fare i lavori dare da mangiare agli animali e preparare l'orto Irene ciao le tue amiche hanno già trovato i loro vestiti dobbiamo decidere come vogliamo vestirci quanti bei vestiti ma dobbiamo trovarne uno adatto per la fattoria oh questo da mucca è molto simpatico eh ma non ti piace allora questo beh questo è bello però non credo che sia comodo manca pochissimo alla vigilia di natale e le nostre amiche si stanno preparando per una festa la sera di natale ciao Irene Irene? sembra che stia cercando qualcosa la nostra amica ma Irene non è ancora il momento dei regali bisogna aspettare la mezzanotte scegliamo il vestito da metterci cosa possiamo mettere? un bel vestito nero? no troppo serio a me piace questo a forma di fiocco di neve non ti piace? oggi ci sarà il ballo della scuola dobbiamo trovare un vestito adatto per andarci vediamo cosa c'è nell'armadio ciao Irene allora come ci vestiamo stasera? dobbiamo trovare un abito adatto al ballo vediamo un po' ci vorrebbe qualcosa di elegante questo completo è molto carino ma non è adatto beh neanche questo però beh come potremmo vestirci? tu hai qualche idea? oggi a scuola ci sarà la festa di carnevale dobbiamo trovare il vestito adatto per andarci ciao Irene allora sei pronta per la festa? dobbiamo trovare un bel costume di carnevale vediamo cosa puoi indossare un bel vestito da robot un bel vestito da robot non ti piace? allora da vichingo tra pochi giorni incomincia la scuola e bisogna capire come ci vogliamo vestire non è vero ragazze? ciao Irene tu sei ancora piccola per andare a scuola però possiamo prepararci per andare e accompagnare le nostre amiche vediamo un po' che cos'hai nell'armadio quanti bei vestitini vediamo un po' no vuoi vestirti da coccodrillo? ma guarda che le maestre potrebbero spaventarsi eh io ti metterei questo bel vestito rosa che dici? ti sta benissimo no? oggi le nostre amiche hanno deciso che si metteranno a dipingere e quindi bisogna trovare il vestito adatto vediamo un po' cosa c'è nel loro armadio ciao Irene sei pronta per dipingere? allora vediamo cosa c'è nel tuo armadio dobbiamo trovare una cosa giusta questo frac no c'è qualcosa che non va forse questo vestito col grembiule questo è perfetto non ti devi preoccupare di macchiarti no? non ti piace? ciao oggi le nostre amiche cucineranno dei buonissimi dolci vediamo come vestirci ciao Irene sei pronta a cucinare? vediamo cosa c'è nell'armadio vediamo cosa c'è nell'armadio allora un bel completo da cuoca come questo è perfetto no? non ti piace? e allora ti vuoi vestire da croissant? vediamo 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 vediamo